e ora il giorno come mai non indossano i cappelli e come facciamo a raggiungere la nostra prossima porta se questi piccoli dinosauri non ci fanno passare benvenuti nella terra dei piccoli dinosauri una volta c'erano degli enormi brontosauri e ognuno di loro il proprio cappello parasole aveva ma poi sono diventati così a causa della creatura minuscola infatti lei si è fermata qui e li ha ridotti come voleva il vento ha fatto volare i loro cappellini sugli alberi vedete i dinosauri vogliono riprenderli da lì su per favore i cappelli prendete